Grazie mille. Grazie mille. Fuori dall'Italia, quindi ho seguito naturalmente tutte le vicende, le vivo anche, ma non sono veramente uno specialista in materia di legislazione italiana. Ho invece avuto la possibilità di seguire a livello internazionale un'interessante traiettoria evolutiva che ha portato a delle importanti modifiche dell'assetto e della concezione della conservazione urbana negli ultimi vent'anni. 15-20 anni sono stato un po' la spinta in qualche modo fino a un porto sicuro, però devo dire che c'era anche un grosso terreno coltivato sotto i miei piedi e quindi sono stato facilitato in questo compito. Io penso che quello che dovremmo riflettere sono dei temi che hanno una caratteristica internazionale ma si riverberano anche nel caso italiano. Il paesaggio urbano è un intreccio, anche la definizione stessa lo spiega, tra quello che sono tutti gli apparati normativi di pratiche urbanistiche e tutti quelli che sono gli apparati invece della protezione e della tutela del paesaggio. Questi due filoni si sono sviluppati in modo autonomo, abbastanza autonomo, in realtà se ci pensate, l'avete anche visto nelle relazioni precedenti, quasi mai vengono messi in relazione, anche se ovviamente l'oggetto, soprattutto se parliamo di un campo urbano, è lo stesso. Questo è un tema su cui andrebbe fatto qualche riflessione, forse c'è anche materia di qualche innovazione normativa, i concetti sono abbastanza chiari, sono stati sviluppati appunto a livello internazionale, alcune raccomandazioni di cui farò cenno, però ancora secondo me siamo un po' lontani da una vera integrazione. L'urbanistica resta una disciplina, diciamo, di gestione e spesso con un'ottica bidimensionale, già vede le città come fossero delle piante, il paesaggio è molto proiettato, l'abbiamo appena visto, su tutta l'area extraurbana, insomma è difficilissimo pensare a un paesaggio urbano della nostra normativa. In questo senso l'Italia non è diversa dal resto del mondo, persino come vedrete nella Convenzione del Patrimonio Mondiale, queste distonie esistono in modo evidentissimo e secondo me anche con conseguenze spesso negative. Vorrevo utilizzare per la mia presentazione, se mi permettete un po' di immagini, stavano sempre a capire un po' meglio le immagini, parlano, quindi farò un share video, spero che sia chiaro a tutti, lo vedete immagino, sì? Allora, innanzitutto volevo ricordare una cosa, il tema del paesaggio è nato molto tempo fa nella normativa internazionale, se voi guardate questa raccomandazione sulla stavaguardia della bellezza e carattere dei paesaggi e dei siti addirittura del 62, questa è una raccomandazione dell'UNESCO che fu fatta perché in quell'epoca, dopo guerra, ovviamente il grande sviluppo economico, il boom industriale, il boom infrastrutturale, aveva messo in pericolo moltissimi siti rurali e urbani. Quindi la prima raccomandazione in questo senso di tutela, di conservazione del paesaggio in quanto bene collettivo viene proprio da questa raccomandazione, che tra l'altro, come vedete, si focalizza proprio sui due siti, siti naturali, rurali e urbani. Lo cito perché, per far vedere che fin dall'inizio c'era una chiara nozione di questa unità di problematica fra questi due siti. Questa raccomandazione è stata abbastanza importante, però poi è stata superata abbastanza rapidamente dal resto, da quello che è seguito. Per esempio, nel 68 l'UNESCO ne ha fatta un'altra raccomandazione sulla conservazione dei beni culturali minacciati da opere pubbliche e private, evidentemente il problema ha continuato e quindi ha focalizzato molto sulla parte dei beni culturali, cioè beni archeologici, beni monumentali che venivano in qualche modo minacciati dallo sviluppo tumultuoso delle città negli anni 50 e 60 e naturalmente i quartieri urbani, i quartieri storici in ambito urbano sono menzionati come una fila. Nel 76 invece viene questa raccomandazione relativa alla salvaguardia e al ruolo contemporaneo delle aree storiche. Questa è una raccomandazione estremamente importante, se mai avrete modo di guardarla, è veramente una raccomandazione molto completa che non solo individua, diciamo, le tipologie e caratteristiche dei beni da conservare, ma soprattutto individua le metodologie e anche i ruoli, i compiti e le strategie dei governi a livello centrale e locale per la conservazione. Quindi è stata forse la più importante, diciamo, di queste raccomandazioni. Ricordo che le raccomandazioni in ambito internazionale sono cosiddette soft law, cioè non sono proprio degli obblighi giuridici, sono più delle, appunto, delle raccomandazioni, delle indicazioni, delle linee guida ai governi perché prendano coscienza di un determinato tipo di problematica e adattino la loro legislazione a queste esigenze. però hanno una certa importanza perché vengono approvate dalla conferenza generale, quindi diciamo c'è un accordo generale degli stati membri, vengono intanto redatte, dato con l'accordo di tutti gli stati membri, vengono approvate dagli stati membri e quindi in realtà rappresentano una forma unitaria, diciamo, di indirizzo che gli stati esprimono. La Convenzione del patrimonio mondiale, che è leggermente precedente a questa, infatti le due sono anche legate, queste due, la Convenzione del patrimonio mondiale invece è proprio una convenzione, c'è un trattato completamente diverso come concetto, nel senso che il trattato invece crea obblighi una volta ratificato. Oggi la Convenzione del patrimonio mondiale è ratificata praticamente da tutti gli stati, sono 195, praticamente non c'è più nessuno stato e mancava forse la Somalia fino a poco tempo fa, ma anche quella è stata risolta quel problema. Gli stati non devono essere necessariamente membri dell'UNESCO, ci sono stati che non sono membri dell'UNESCO, per esempio non sono il Vaticano o gli Stati Uniti adesso, o Israele, che continuano a essere membri della Convenzione. Questa Convenzione, come certamente ricorderete, è nata soprattutto sull'onda delle grandi campagne internazionali che l'UNESCO aveva condotto negli anni 50 per la salvaguardia dei grandi monumenti dell'umanità, Abusimbele era il caso simbolo. Quindi è molto legata a una concezione, chiamiamola così, monumentale del patrimonio, cioè in realtà è l'esito di un ragionamento, di una evoluzione, diciamo. teorica, che ha i suoi riferimenti, soprattutto in ambito ottocentesco, nella grande cultura della conservazione del patrimonio sviluppata in Francia, in Germania, in Italia in quel secolo lì. È una, diciamo, pensialmente l'oggetto principale sono i grandi monumenti, del resto i padri fondatori della Convenzione. Non pensavano che questa Convenzione si sarebbe spinta ad avere più di mille siti che ha adesso. Pensavano che ne avrebbe avuto circa un centinaio, perché quello gli sembrava il numero dei grandi monumenti che potevano esistere nel mondo, le famose sette meraviglie del mondo antico, cento, diciamo, nel mondo moderno. Questa è un po' la definizione del patrimonio nella Convenzione. Sostanzialmente ci sono i monumenti, gli agglomerati, cioè gruppi di edifici isolati, riuniti. Questa è anche la definizione ancora purtroppo attuale di città storica nella Convenzione del patrimonio mondiale. Gruppo di edifici. Non si è ancora riusciti a fare questa trasformazione. Le Convenzioni di per sé non si può cambiare, perché è un trattato che per cambiarlo avrebbe bisogno appunto di un nuovo voto della Confidenza Generale, avrebbe possibile cambiare il testo di un trattato in modo semplice. Però si possono certamente adattare attraverso degli strumenti di corredo, che sono in genere le guide operative e altri strumenti. E i siti. Però per siti, nonostante sia specificato che si comprendono anche le opere dell'uomo e della natura, quindi i paesaggi, per i siti diciamo che l'oggetto erano principalmente i siti archeologici. Quindi sostanzialmente la Convenzione si occupava di monumenti e siti archeologici per quanto riguarda i siti culturali. Poi ci sono anche i siti naturali, ma di quelli non parlo. Non aveva in mente ancora l'elemento paesaggistico e come vedete non aveva in mente nemmeno l'elemento urbanistico, perché vede le città come sostanzialmente dei gruppi, dei pezzi, dei pezzi di città, dei gruppi monumentali che hanno un particolare valore, non ha una concezione integrata del valore dell'insieme urbano storico, che comprende sia le parti monumentali che le parti non monumentali, tessuto urbano normale, eccetera eccetera. Come sapete la Carta di Venezia, che è precedente, la Convenzione dei Marchi, che è una ispirata, è un po' all'origine di questa impostazione. Anche la Carta di Venezia, a mio avviso, è l'esito di questo secolo di riflessione sui monumenti, però anche qui parla molto di monumenti. Ogni tanto fa riferimento all'ambiente urbano, all'ambiente urbano che sta attorno ai monumenti, ma lo scopo e il focus principale sono certamente i monumenti, al punto che lo stesso ICOMOS, il Consiglio Internazionale dei Monumenti e Siti, che è nato l'anno dopo della Carta di Venezia, che però trova in questo documento la sua massima ispirazione, fu costretto a ripensare un po' la questione e nell'87 emise questa Carta di Washington, che è il complemento della Carta di Venezia per quanto riguarda le città storiche. Quindi è come se la leggerete, vedete che è una carta molto ispirata anche alla raccomandazione del 76, dove ovviamente l'elemento urbano non è visto più solo come elemento monumentale, ma come elemento integrato appunto di varie comandazioni. Siamo però sempre in ambito monumentale, qui ancora, vedete, mancano molto più riferimenti ai valori, diciamo, naturali, ai valori materiali, a questo elemento di stratificazione urbana, che invece poi verrà raccolto da altri testi. La Convenzione del Paesaggio Europeo, di cui si è molto parlato, oggi si parlerà nei prossimi incontri, è anche questo un punto d'arrivo. In fondo raccoglie tutte queste, diciamo, diverse stimoli che sono venuti dalla riflessione sul paesaggio storico attraverso le convenzioni internazionali, attraverso ovviamente la disciplina geografia in particolare e le discipline di conservazione sul tela, e ne fa una proposta agli Stati membri, sostanzialmente citando, come vedete qui, gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Sottolineo questo perché effettivamente in questo caso, come vedete, si è proposto un insieme integrato di aree. La Convenzione del Patrimonio Mondiale, come mostrerò fra un attimo, tratta ovviamente dei paesaggi culturali, è una innovazione che è stata portata nel 92, però si riferisce a questi paesaggi sostanzialmente come paesaggi rurali, mentre la Convenzione Europea del Paesaggio fa riferimento anche agli spazi urbani. Questo penso sia un punto molto importante d'appoggio per future riflessioni su aggiornamenti delle pratiche, anche forse delle normative, in questo campo. Nel 2011, e poi non è più tardi alla fine della mia presentazione, l'UNESCO ha emesso questa altra raccomandazione, questa volta proprio sul paesaggio urbano storico. In qualche modo, adesso vedrete anche i motivi per cui questa raccomandazione è stata proposta. In qualche modo, però, certamente è stato un enorme salto, diciamo, concettuale e teorico dalla Carta di Venezia e anche dalla Convenzione del Patrimonio Mondiale, che vede le aree urbane sostanzialmente come aree, gruppi di monumenti. In questo caso si è cercato di fare il salto oltre e di integrare i concetti di tutela e protezione del patrimonio in quanto patrimonio monumentale con i concetti di tutela, diciamo, a livello di paesaggio urbano storico. Vedrete poi più in dettaglio le ragioni di questa scelta. Naturalmente, voi sapete bene che nella definizione del paesaggio ci sono molte correnti teoriche. Quella italiana, come è stato ricordato, è più legata appunto all'aspetto della bellezza e della protezione della bellezza. Queste forme invece di tutela del paesaggio a livello, nelle carte internazionali, sono sicuramente riferite alla tradizione tedesca e anglosassone, quindi decadenature più geografiche, diciamo, che urbanistica o addirittura, diciamo, architettonica. E quindi cercano di identificare, sono basate proprio su una forma analitica che guardano alla stratificazione dei valori che vengono, si riflettono in un paesaggio sia rurale che urbano, come in questo caso. Quindi questa definizione di paesaggio urbano storico è molto legata a quella impostazione lì, che forse è Karlsauer in Germania, ma poi, diciamo, sostanzialmente ha trovato anche urbanisti, come in Kargen o molti altri in America, i loro, diciamo, quelli che ne hanno portata a sviluppo. Vorrei fare un piccolo riferimento al problema delle città, nel problema o anche alla bellezza di avere molte città storiche nella lista del patrimonio mondiale. Una convenzione che è nata come convenzione di tutela di monumenti e aree archeologiche si trova oggi ad avere 1054 siti iscritti, di cui più di un terzo sono città storiche. Questo lo dico per mostrare l'enorme, diciamo, importanza che ha assunto la città storica negli ultimi trent'anni, almeno, come elemento patrimoniale. E ricordo che non lo era all'inizio, all'inizio appunto si pensava solo ai grandi siti, tipo il Partenone o tanti altri, ma certamente non venivano viste le città storiche come come un elemento patrimoniale. In alcuni casi, in alcuni paesi, questo è ancora così, io ricordo bene le mie lunghissime discussioni con i rappresentanti del governo indiano che non hanno mai pensato che una città storica potesse essere un bene patrimoniale, perché per loro il bene patrimoniale era per definizione un bene archeologico. Per fortuna anche questo che questa ultima barriera si è rotta. L'anno scorso la città di Ahmedabad è stata iscritta alla lista del Patrimoniale, ma ci abbiamo messo quasi vent'anni a spiegarglielo. Però il vantaggio è che molte città, come vedete in queste immagini, questo è il Monastero Lavra a Kiev, hanno complessi così grandi, così importanti, che in realtà le aree protette più le aree di tutela correlate, le zone tampone, eccetera, occupano tutta la città storica. E questo comincia a creare dei problemi, perché evidentemente fuori dalla zona tutelata ci sono elementi, movimenti di sviluppo che spesso creano problemi di interferenza, ovviamente di carattere visuale, visivo, eccetera, con questi monumenti. E abbiamo dappertutto di questo tipo, di problemi di questo tipo, la moschia di Timbuktu, anche persino a Pechino con il Tempio del Cielo. Nel centro delle grandi città storiche ci sono spesso monumenti importantissimi, ma non ne parliamo addirittura di interi complessi come il Vaticano, eccetera, eccetera. Venezia è uno dei primi siti, anche più iscritta come città storica interamente, però è anche una città, anche associata alla descrizione della sua laguna, quindi forse il primo caso in cui questo elemento, diciamo, del contesto paesaggistico è stato messo in evidenza, però non tanto in quanto paesaggio storico, ma in quanto bene naturale. Abbiamo un'azione di questi due elementi, cioè Venezia è scritta come bene culturale, la laguna come bene naturale, però c'è meglio che nulla. Non faccio altro, non faccio la lista, evidentemente voglio mostrarvi che praticamente in tutte le regioni del mondo ci sono città storiche importantissime e, devo dire, quasi tutte tutelate sotto la Convenzione con un modello che è un modello, a mio avviso, molto semplice, cioè praticamente viene identificata una zona centrale che viene chiamata la zona cuore, il cuore della zona tutelata e poi una zona attorno di una zona di tutela con una specie di area tampone. Quindi la Convenzione del patrimonio mondiale non ha portato quasi nulla in termini di, diciamo, di innovazione gestionale, perché i suoi strumenti sono estremamente primitivi, sono quasi, oggi, insomma, consentono moltissime cose alla gestione locale. Però è un modello che si applica dappertutto, ma è un modello ancora molto insufficiente, è una vera tutela, quindi deve appoggiarsi, ovviamente, alle pratiche locali. Gerusalemme, ovviamente, Sana, sono anche situazioni piuttosto difficili, oggi, Kito, eccetera. Poi abbiamo addirittura una serie di città moderne, questa Chandigarh, anche se Chandigarh in India, gli indiani non volevano appunto le città storiche e quindi gli hanno preferito mettere solo alcune parti, queste sono ovviamente la zona, diciamo, progettata dalle Corbisie per i palazzi di giustizia, i palazzi di governo e non il resto della città. Mentre Brasilia, invece, è interamente iscritta nella lista del patrimonio, così come Leavro, un caso recente che ha fatto molto rumore, perché Leavro non era considerata bella o interessante, invece con la scoperta di un patrimonio moderno è stata molto rivalutata. e anche Tel Aviv, che è quella zona progettata negli anni 30 dagli architetti fuggiti dalla Germania. Bene, nel 92 viene inserita nella Convenzione del patrimonio mondiale questa categoria dei paesaggi culturali. C'era, come avete visto, tracce, no? Nelle regione, però non era mai stata ben identificata. Questa è una terza categoria, diciamo, abbiamo i paesaggi, abbiamo i siti culturali, i siti naturali e poi questi paesaggi culturali, che per quanto nel dispositivo normativo siano considerati elementi culturali, in realtà hanno una caratteristica molto diversa. Hanno avuto un successo estremo, ce ne sono più di cento ormai nella lista del patrimonio mondiale, in tutte le aree del mondo. Si era pensato che i paesaggi culturali potessero interessare soprattutto le aree, diciamo, povere di monumenti, ma in realtà non è stato così. Anche in Europa, come vedete, moltissimi sono. I paesaggi culturali della Convenzione del patrimonio mondiale sono di tre tipi, come vedete. Uno è il paesaggio progettato, quindi sostanzialmente giardini, parchi, eccetera, eccetera. Uno è il paesaggio organicamente evoluto, sono i paesaggi, diciamo, agli ecoli, sono quelli di cui si è parlato fino adesso, articolato anche questo, un paesaggio fossile, cioè lo stesso però ormai non più attivo, è il paesaggio continuo e poi il paesaggio culturale associativo, che sono gli elementi nei quali valori di carattere culturale o anche spesso spirituale vengono associati al paesaggio. Ci sono alcune forme interessanti, forse ve lo mostrerò, nel mondo di questo tipo, di questa tipologia. Con questa articolazione, che è abbastanza, diciamo, onnicomprensiva, il successo dell'operazione, come questo è un paesaggio di tipo associativo, non dovremmo stare più questa foto, perché ho letto ieri che gli indigeni e gli aborigeni dagli Uluru hanno chiesto di non pubblicare più le immagini di questo loro sito sacro, che si chiama Uluru, che appunto, come vedete, è una roccia alla quale sono associati i valori mitici e spirituali di questo gruppo di origini australiani. Quindi, diciamo, dal punto di vista non c'è nessun intervento dell'uomo fisico, è un intervento di carattere simbolico e spirituale. Stesso, per esempio, in caso del Tongariro, la montagna, il vulcano Tongariro, in Nova Zelanda è la stessa cosa. Ma ci sono moltissimi, questo è stato anche citato, moltissimi paesaggi, soprattutto legati alla produzione agricola, vino tantissimi, sono moltissimi di vino e di cuore moltissimi, anche la tequila o altri così, e molti altri legati alla produzione del riso, per esempio il famoso lisiere delle Filippine, o anche in Cina ce ne sono, questi paesaggi legati alla riforma, diciamo, carsiche, i paesaggi culturali africani, Bandiagara, questo è il famoso paese dei Dogon, dove c'è un'integrazione notevole tra l'elemento naturale e quello agricolo nella vita delle persone, e così via. L'unico paesaggio urbano, nel senso strettamente urbano, che finora è stato iscritto nella vista del patrimonio mondiale, è questo di Rio de Janeiro. Rio de Janeiro voleva entrare nella lista come città storica, però purtroppo è stata molto trasformata negli ultimi decenni, quindi la parte storica, che peraltro è ancora interessante, visibile, è stata un pochino sopraffatta, diciamo, dalla modernità. Quindi quando hanno presentato questa domanda di nomine non sono stati accettati, però è stato accettato invece di iscrivere il paesaggio di Rio de Janeiro, quindi sostanzialmente le grandi formazioni, la collina Cijuca, il Pando Aspucar, eccetera, che fanno parte della struttura della città e non la parte costruita, ma la parte, diciamo, naturale. Però ovviamente attorno a questo c'è una zona di protezione che quindi abbraccia gran parte della città. Quindi questo compromesso, diciamo, ha permesso la riscrizione dell'unico paesaggio culturale urbano che c'è. Ora, nella storia recente della Convenzione, il Comitato del patrimonio mondiale si è trovato a affrontare delle questioni molto difficili che non riusciva bene a inquadrare. Sostanzialmente il fatto che moltissime città storiche, per esempio questa è Kathmandu, iscritta nella lista del patrimonio mondiale, una foto presa nel 1970, dove vedete questa forte integrazione tra elemento monumentale e tessuto storico e ovviamente questo è quello che c'è oggi. Quindi è stato, diciamo, totalmente distrutto tutto il tessuto storico, sono rimaste le parti monumentali. Allora questa perdita dell'insieme dell'intorno del monumento crea un problema. È ancora patrimonio o no? Questo è stato discusso a lungo. La stessa cosa è successo, per esempio, nella città di Zabid, nello Yemen. Anche questa è largamente distrutta e della sua cementificata, diciamo, con però i monumenti ancora intatti. Persino in Europa, dove ci sono monumenti importantissimi, questa è per esempio la Torre di Londra, che è scritta nel patrimonio mondiale. Questa è l'unica vista possibile della Torre di Londra, perché in realtà si trova in questo contesto urbano, dove uno si chiede ma effettivamente che cosa si può fare per cercare di tenere all'interno, all'intorno di un monumento, il suo contesto. Questa è la lavra di Kier, che avete visto prima, anche questo può assediato dalle torri, eccetera, eccetera. Questo è un famosissimo alien di Graz. La discussione sul ruolo dell'architettura contemporanea nelle città storiche è enorme, ovviamente non possiamo solo accennarla, ma certamente rispetto a alcuni principi che la Convenzione del patrimonio aveva fissato, c'erano parecchi dubbi sulla possibilità di inserire elementi di questo genere. Ce ne sono stati tantissimi di casi e molto spesso con grandi controversie, pensiamo ai progetti di Gheri, Baga o questo qui di online, anche davanti alla piazza di Viena o questa, addirittura non c'è neanche dignità di una firma di un architetto alla piazza centrale di Santiago del Cile. Quindi cose diciamo che hanno suscitato enormi reazioni, perché se non c'è una forma di disciplina nemmeno all'interno del patrimonio mondiale, no, come si può gestire queste cose. Non parliamo poi delle infrastrutture, perché le infrastrutture sono una minaccia continua, anche oggi, se vi faccio vedere alcuni esempi, noi ne abbiamo moltissimi casi in Italia, ma certamente il più straordinario è quello di Genova, dove il rapporto tra la città storica e il suo porto è stato totalmente alterato dalla costruzione di un'autostrada urbana, una tangenziale che ancora adesso separa e forse per sempre separerà il porto dalla sua città. Il recentissimo ponte di Istanbul, al cui abbiamo cercato in tutti i modi di opporci, perché secondo l'UNESCO questo ponte non ha nessun senso, non è fatto così, perché poter semplicemente andare in competizione con proprio la parte verticale del paesaggio urbano di Istanbul, che è fatto dai minaretti, dai grandi moschei, non ha proprio nessun senso farlo così, potrebbe essere fatto in modo diverso come quelli vicini, ma niente, che è stata una decisione del sindaco di allora, che poi ha negato ovviamente di essere lui responsabile, eccetera, eccetera. E il caso ancora più straordinario, la città di Parma, vecchia, che vedete al centro della foto, circondata da un'autostrada, toglie totalmente la sua relazione con... per dire, ci sono casi straordinari di manomissione proprio del paesaggio storico. E poi ci sono altre situazioni che lo stesso comitato non riusciva bene a decidere, perché la gentrificazione, certo, è un elemento continuo, ovunque nel mondo lo troviamo, però la perdita totale di, diciamo, di strutture sociali, che sono comunque associate a un insieme urbano, in qualche modo è una perdita di relazione con il suo valore patrimoniale. E poi il turismo, ovviamente adesso, forse in questo momento non c'è più in questo tipo di turismo, ma voi potete immaginare cosa succede in tutte le città storiche normalmente d'estate, quindi noi siamo, io sono veneziano e molti altri di voi anche, sapete bene a cosa ci riferiamo, cioè come una città può essere veramente violata da questo tipo di macchina industriale che è il turismo contemporaneo. E quindi come i valori patrimoniali che sono associati alla città possono essere anche persi, perduti attraverso questo tipo di manomissioni. Quindi, vabbè, questo è il caso veneziano, ovviamente famoso. Quindi nel 2011 fu, dopo una decina da anni di discussioni, fu finalmente approvata questa raccomandazione del patrimonio urbano storico, quale non è ovviamente un toccasana di nessun tipo, però certamente consente di allargare la vista sul significato delle città storiche e soprattutto sul significato del valore del patrimonio urbano storico. brevemente di cosa si tratta? Ma sostanzialmente è una rilettura, una riconcettualizzazione della città storica che, come vi ho detto prima, è vista soprattutto nel mondo internazionale, è vista soprattutto come un insieme monumentale, invece come una stratificazione storica di valori culturali e naturali, oltre il perimetro, diciamo, dell'insieme storico, del centro storico. Perché noi abbiamo sviluppato in Italia, tra l'altro poi esportato in tutto il mondo, il modello del centro storico. Il modello del centro storico è sostanzialmente una distrettualizzazione del patrimonio, cioè dentro c'è il patrimonio e fuori no. Questa è un'operazione estremamente arbitraria, totalmente fatta dall'alto al basso e anche fuori era di gravi rischi, come ho visto quando gli investimenti fatti dal settore pubblico nei centri storici, investimenti importantissimi in Italia soprattutto, ma anche in Francia che ha delle regole simili, hanno finalmente, hanno sostanzialmente predisposto la macchina turistica, cioè sostanzialmente un investimento pubblico ha sostanzialmente favorito la nascita di un'industria privata che beneficia totalmente degli investimenti fatti senza contribuire, ma portando via ovviamente gli abitanti, perché a quel punto diventa una macchina, diciamo, di espulsione, nemmeno più di gentrificazione, ma di vera propria espulsione anche delle popolazioni che avevano gentrificato prima i centri storici. Quindi la visione oltre, diciamo, al perimetro del centro storico ha anche un valore non solo così storico, monumentale, ma anche proprio di carattere gestionale. E quindi il paesaggio urbano storico si riferisce a un contesto più ampio che include, come dice il testo della raccomandazione, la topografia del sito, la geomorfologia, ideologia, le caratteristiche naturali, l'ambiente costruito storico e contemporaneo, infrastrutture, spazi aperti, giardini, forme urbane, viste, relazioni visive e altri elementi. E in più le pratiche, i valori sociali e culturali, i processi economici e tutte le dimensioni immateriali del patrimonio in relazione alla diversità e all'identità. Questo è importante perché, come vedete, vengono messi almeno due o tre nuovi elementi nel concetto di patrimonio urbano, tutti i valori naturali, i valori della stratificazione, i valori sociali e persino economici e tutti i valori immateriali, di memoria, eccetera, eccetera. Non che non ci fosse, però non sono integrati nella stessa, diciamo, dimensione normativa e gestionale. Vabbè, poi ci sono un po' di strumenti regolativi, insomma, questo tralascio un po' per il tempo. Sostanzialmente, in cosa consiste la pratica? La prima cosa è stata la proposta di ridefinire la città storica, cosa che, tra l'altro, in Italia si era già fatta, perché voi considerate il caso di Bologna, questo è il perimetro del centro storico di Bologna all'epoca Cervellati, per intendersi, no? Il primo piano degli anni 60-70, Benevolo Cervellati e questo era il loro centro storico. Ma l'ultimo piano, fatto nel 2005 o 2006, sotto la direzione di Patrizia Gabellini, invece, considera la città storica tutta una serie di insiemi, come vedete, esterni alla cinta medievale delle Mura. Persino c'è una zona di dirizia popolare degli anni 50, perché si è scelto un approccio dal basso, cioè di confrontare insieme alla popolazione, di discutere insieme alla popolazione quali sono i valori da conservare, cos'è storico. Cos'è storico avviene da un, diciamo, dialogo fra chi ha il potere di decidere le aree di conservazione e la popolazione, come questa si identifica con questa stessa area. È interessante questo elemento e questo è veramente uno degli elementi al cuore della concezione del paesaggio urbano storico. Poi tutta la stratificazione, adesso non posso entrare in dettaglio, ma insomma l'Italia, questa Siracusa, è piena di queste cose, ma tutte le città, tutte, anche quelle moderne, sono sostanzialmente stratificati, perché non sono elementi architettonici, sono elementi di altra natura, o tracce precedenti della presenza umana, eccetera, eccetera. E molti l'hanno valorizzata, Londra per esempio fa moltissimo lavoro sulla sua storia romana, per esempio, ci sono anche Atene, l'ha fatto, eccetera, eccetera. Poi c'è questo elemento di studio, diciamo, del contesto naturale. Ho scelto questo disegno, la rappresentazione di questo studio importante che è stato fatto su Manhattan, dove è stata studiata Manhattan, senza la città, per capire cosa c'è sotto, qual è il tipo di ecologia e di geografia urbana che si trova sotto. E questo aiuta moltissimo anche nella progettazione della città stessa, quindi il fatto di inserire questi elementi, perché tutte le città sono sedute su un elemento naturale, però molto spesso viene visto come strane o urbanistico, una cosa, diciamo, che non rientra nella concezione di valore culturale. Ovviamente c'è il discorso delle tipologie, in Italia, come sapete, è stata la residente signana, l'analisi delle tipologie urbane, tipologie edilizie, come strumento anche della conservazione e progettazione urbana, e questo è stato molto applicato, questo è un caso di Acquenca, per esempio. Il discorso delle viste, questo è un caso classico, diciamo, che è stato sviluppato a Chiotto, che è una città che secondo me non ha conservato tutto bene il suo tessuto minore, però ha conservato abbastanza bene i rapporti visivi fra le sue diverse componenti, soprattutto quelle monumentali e quelle, diciamo, le montagne che lo circonda. E attraverso una passi di pianificazione che è stata cominciata fin dagli anni Settanta e che ha portato a un vero e proprio piano di conservazione degli assi visivi, questo è il caso di Chiotto. Anche a Firenze hanno utilizzato, tra l'altro questo è il piano di gestione del Centro Storico, scritto nella lista del patrimonio mondiale, hanno fatto un'operazione molto interessante per chi volesse vedere, soprattutto sulla conservazione degli assi visivi della città. Quindi tutti questi elementi, diciamo, di gestione della terza dimensione della città sono molto importanti. E infine, ovviamente, la partecipazione dei cittadini e l'integrazione con la popolazione, questo è fondamentale e, diciamo, è un po' la radice anche della concezione che cercherebbe di essere una concezione vista dal basso, ecco, c'è una specie urbanistica e di conservazione urbana vista dal basso insieme alla partecipazione della città. Poi c'è l'elemento memoriale, non so se qualcuno di voi è stato a Berlino, questo è il centro, centro, centro di Berlino dove c'è appunto il memoriale fatto dalla Shoah, fatto da Eisenmann, questo è un caso un po' estremo, diciamo, però le città sono luoghi di memoria e questi luoghi di memoria devono diventare questa piazza, le madri di Piazza di Maggio a Buenos Aires con le madri di Piazza di Maggio, come sapete la distruzione delle due torri della città, questo fantastico memoriale che si trova lì in centro di New York, ma questi sono casi estremi, ma ci sono molti casi anche, diciamo, più minori che possono diventare elementi importanti di valorizzazione e di identificazione dei valori della città. L'immateriale sono le manifestazioni, oltre alla memoria, le manifestazioni che si svolgono nelle città, i luoghi diventano luoghi vivi attraverso la presenza di forme, diciamo, di narrazione o semplicemente di interazione di interazione umana, oppure anche di rappresentazione, diciamo, di elementi tradizionali e della vita umana. Poi l'elemento artistico, una dimensione fondamentale anche dell'arte contemporanea, che va promossa in tutti i modi, perché in qualche modo riavvicina, rientra il primonio, come in questo caso, è un caso di Rolansky, che è stato rifatto, rientrepretato da Cristo, oppure anche le cose dell'architettura contemporanea, la raccomandazione del peggio al giobano storico la promuove, però ovviamente con un ragionamento sul contesto, questo è il caso di Nimm, l'elemento progettato da Foster vicino, di fronte alla Maison Carre, anche questo bellissimo progetto di piano, ovviamente fa parte di questi ragionamenti, e infine un legame con lo sviluppo. Qui entriamo in un campo ampio, non ho ovviamente il tempo di svilupparlo, però certamente lo sviluppo urbano deve essere, urbano in senso anche economico del termine, e di creazione di qualità degli spazi urbani, deve essere assolutamente integrato all'interno di questo concetto. C'è un, come vedete, siamo in un campo ampio e anche articolato di concezioni, che attualmente sono in corso di applicazione di questo manuale che è stato redatto recentemente, soprattutto per le città asiatiche, non siamo ancora molto, non è molto sviluppato ancora nei termini normativi, questo, diciamo, è più ancora a livello concettuale, però ci sono parecchie pratiche ormai che si possono studiare, possono essere portate ad esempio, e sono, diciamo, un modo diverso di leggere, interpretare, valorizzare e gestire le città storiche, come vedete, attraverso un'integrazione fra un elemento che ha un carattere più strettamente urbanistico, di conservazione urbana, ma viene dall'urbanistica, e un elemento che invece ha i suoi rifiamenti concettuali teorici nel mondo, nella teoria della conservazione del paesaggio. Mi fermo qui, Matelda, e se c'è qualche domanda o qualche commento sono qui per la disposizione.